La montagna tira fuori le mie energie, mi fa sentire meglio, perché quando vado in montagna io sto molto meglio per quello. La montagna a me piace tutto, perché puoi incontrare degli animali bellissimi, poi i fiori che ti impressionano, dove puoi vedere anche nuovi tipi di fiori. Io ho 12 anni più o meno che vengo al gruppo montagna e mi sono trovata bene da subito, però ho un brutto vizio di andare troppo veloce, quello è un mio difetto, anche se a volte magari è un pregio, perché tutti mi seguono. Io sento molto la fatica in montagna, però è quello che mi sprona ad andare avanti, perché voglio sempre arrivare in cima per dire che anch'io sono lì. In pratica io ce l'ho fatta arrivare in un posto dove magari altre persone non ci possono arrivare. Mi ha spronato questo gruppo a essere ancora ogni volta più forte e più allenata. Sì, mi piace sorpassare i limiti, come dice Seba, purtroppo deve sempre calmarmi, perché io sono sempre la prima e quindi a volte magari dà anche un po' fastidio ai maschi, perché purtroppo ho una donna davanti. Grazie. Grazie. Ciao.